Non hai ancora nella tua collezione il disco di Francesco Loccisano e Marcello De Carolis per chitarra battente? 20. Lo trovi in vinile in edizione limitata su www.calabriasona.shop o scrivi un messaggio whatsapp su 350 090 1327 350 090 1327 per avere maggiori informazioni 20. Un vinile che non può mancare nella tua collezione edizione limitata